Mi chiamo Stella, vivo a Roma e tra un mese compirò 112 anni. I miei anni si calcolano come quelli dei cani. Ogni anno va moltiplicato per 7, quindi 16 valgono 112. Più o meno un cane vive mediamente 16 anni, quindi non mi rimane molto tempo. Sono sveglia! Avete capito bene, tra un mese morirò. Lui è Piedino. Abbiamo la stessa età e quindi la stessa aspettativa di vita. È così vecchio che ha anche smesso di correre. Arrivo! Ma buongiorno. Cos'è sto musulogo? Da quando papà non c'è più, mia madre Rita, commercialista, si affida la cosa più distante dalla matematica. I tarocchi. Cioè, dei tarocchi taroccati perché il suo mazzo ha 21 arcane invece che 22. Poi c'è mia sorella Ludovica. Ha 18 anni ed è quella perfetta. Quella con i bei voti a scuola, i ragazzi e molti anni da vivere. Più di me sicuramente. Il cane è nudo ma è comunque vestito meglio di te. È pure mezzo soppo se è per questo, ma quando cammina non sembra avere un pane nel culo. Per quanto tempo dovrà stare con noi così, no? Si chiama Piedino. Comunque non vi preoccupate, siamo cani adulti. Quando arriverà il nostro momento ce n'andremo in solitudine. Amore, scusa, perché non organizziamo una bella festa per il tuo compleanno? Rischio che diventi una veglia funebre, mamma. Non basta essere brava, non basta essere me.